La sua scrittura, Oriana Fallaci si condensa, si concretizza in ciò che ha scritto perché lei ha fatto sostanzialmente questo e quindi ricordo il fatto che è stata la penna che più di altre è riuscita a scuotere le nostre coscienze. Dobbiamo essere grati, Oriana Fallaci, perché a distanza di dieci anni scopriamo che è stata la persona che ha avuto il coraggio di denunciare il fatto che il male è insito nell'Islam e che pertanto il problema non fosse solo e tanto il terrorismo islamico, solo e tanto il radicalismo islamico che si anida all'interno delle moschee, ma l'Islam che ispira il terrorismo, islam che ispira e legittima il radicalismo islamico.